ebbene carissimi amici ben ritrovati qui sul mio canale youtube una buona giornata a tutti voi allora le mie spie continuano a segnalare grandi 90 e dall'ultimo quadro estrazionale di giovedì 15 abbiamo sono andato a scovare un'altra bellissima spia per tutti voi la spia 87 di genova che vincerà il 90 sulla ruota di cagliari sapete benissimo che quando vado a presentarvi dei metodi spie vado a dirvi che il 90 sortisce su quella ruota puntualmente arriva e lo andiamo a vincere so che tantissimi di voi soltanto guardando i video di presentazione vanno a vincersi diversi 90 di questo ne sono contento un altro potente metodo spia per tutti voi che ci porterà a vincere questo 90 non perdete assolutamente i metodi spia perché sapete che sono una bomba vincente sapete quante soddisfazioni abbiamo avuto quante vincite sono arrivate quindi attenzione li potrete avere sempre con la solita modalità vincita venuta dedicati ai metodi spie con impegno di giocata e avremo il 90 secco con i 5 ambi tutto su unica ruota questo è importante non c'è ruota di recupero non c'è gioco a tutte non c'è gioco di ambetto sono metodi secchi unica ruota il 90 con gli ambi secchi stop quindi è un metodo secco a ruota secca la cosa importante che il metodo spia rimane sempre vostro contattemi via whatsapp al numero 348 75 47 715 quindi i metodi spia sono mi fate una bella collezione alla fin dei conti perché le mie spie sono sempre valide nel tempo partiremo dall'estrazione di venerdì 16 di febbraio da questa sera per massimo 13 colpi unica ruota di gioco di cagliari 90 secco anche quarta e quinta posizione determinata e ce ne va a valutare un po di statistica come sempre facciamo per vedere anche la potenza di questi metodi e come potete notare anche questo metodo ha portato negli ultimi 20 casi analizzati diverse vincite di ambi secchi guardate ha pagato diversi ambi secchi può succedere il negativo può succedere l'esto in cui da sua lambata ma questo è normalissimo molti si stupiscono che magari si è presa una spia e magari è arrivata solo lambata o è arrivato il negativo ma è normalissimo che succeda questo non succede spessissimo ma può capitare però chi mi segue nelle spie con costanza magari un metodo da negativo un metodo da sua lambata poi possono capitare due tre metodi che ci danno ambi a raffica come è successo quindi questo è normalissimo non esisterà mai il metodo che vi darà il 100% di vincite 100 su 100 il lotto è tutta una questione di costanza mantenendo la costanza nel gioco e la fiducia nelle previsioni si vanno a raccogliere i risultati quindi attenzione guardate poi con le mie spiega cosa succede che dopo il negativo arriva il doppio ambo e si va al recupero come quella condizione del 2 marzo 2023 la condizione del 17 giugno diede a lambata 50 cosa succede poi il 29 luglio con la condizione spia successiva che paga il doppio ambo e si va sempre al recupero sia con i metodi mensili sia con le mie spie sempre così quando c'è il negativo o c'è lambata soltanto poi si va al recupero e così via guardate la condizione del 9 settembre del 2023 il capoggio che era il 52 con questi cinque abbinamenti a colpo 52 50 ambosecco poi al sesto colpo 52 81 e al e basta ero due ambi due ambi e due ambate poi ottavo tredicesimo colpo quindi la cosa importante che le mie spiega vanno anche continuate per l'intero ciclo di gioco anche quando c'è una prima vincita perché danno spesso e volentieri vincite multiple ecco perché io le faccio sempre continuare come vedete sono arrivate diverse e bellissime vincite di ambi secchi il 21 novembre 2023 portava lambata secca 53 a questi cinque abbinamenti al quarto colpo ambo 53 2 e 53 78 13 colpo ambo 53 e 18 quindi bisogna giocare con costanza fino all'ultimissimo colpo perché come vedete paga spesso e volentieri anche all'ultimissimo colpo può arrivare l'ambosecco l'ultima volta che si è presentata la spio 87 su genova era il 16 di dicembre lambata era l'88 su cagliari con questi cinque abbinamenti al quarto colpo 88 90 sulla ruota di cagliari guardate poi quello che vi dico sempre che quando le mie spie pagano lambata nei primi colpi o addirittura a colpo come è successo nel caso della condizione spia del 16 dicembre è molto robabile che pagano ancora con l'ambosecco e così è successo attenzione 15 febbraio 2024 sortisce l'87 di genova dal calcolo del metodo ci esce fuori proprio il 90 quindi attenzione perché avremo il 90 con i cinque abbinamenti ambosecco da puntare su unica ruota di gioco di cagliari cagliari è una bella ruota cagliari è forte ve l'ho fatto vedere anche dall'analisi estrazione che i segnali sono buoni quindi mi raccomando a non perdere questo metodo con la previsione dei cinque ambi negli ultimi 20 casi esaminati questo metodo ha pagato 26 ambate 25 ambi a ruota questi metodi hanno statistiche incredibili e sul campo hanno sempre dimostrato grandi vincite con il 90 quindi mi raccomando cari amici a non perdere la spia 87 di genova per adesso saluto a tutti